c'è la batteria ok ma dove si prende quelle da tenere qua questo tutto in amazon si entri scrivi scrivi cjcam 5000 e saranno tutti tutti attrezzi ci sono quelle pagine che ti offrono subito tutto completo sono quelle che ti offrono o completi separati o camera separata o camera più ti propongono con un sconto completo e tu guardi attento amazon si 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 fa tutto però non merita fare fotografie video si perché qualità sarà diciamo sai come video in movimento più o meno video oggetti più o meno colore video diciamo qualità non si sente talmente talmente forte invece foto si senti che qualità è un po bassa non 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 da da no che lo accade per un nuovo uso calma la 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 Grazie a tutti. Ecco. Chiamano stambecchio? Chiamano stambecchi. E ci sono stambi qui? Stambi qui. Hai visto qui i corni? Bellissimi. come una capra come una capra come una capra come una capra non solle che ne vede, capo non via e questa è la di animale io ho trovato il gattico e il tomore questi stemback hanno anche la potenza ho visto video come loro corrono da un jaguar hanno la potenza nelle gambe incredibile equilibrati qui si qui 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 qui